Per non aver potuto stare quanto avrei voluto all'Ecco, a Como, a Sondrio e in questa regione al final del fatto che le campagne elettorali fatte in inverno sono veramente una violazione dei diritti umani e probabilmente la prima riforma che dovremmo chiedere dal punto di vista procedurale è poter fare una campagna elettorale che si è fatta veramente tra le persone, in mezzo alla strada e non al chiuso che non sta proprio nelle nostre corte. Io ringrazio profondamente Laura Baudrini per essere stata qui, per me lo dico con grande sincerità, un grande onore e un grande orgoglio poter essere rappresentata da una donna di questo spessore e di questo coraggio in una lista che non è solo una lista ma è un progetto che vuole essere di grande spessore e di grande coraggio. Laura, una domanda solo per te. Allora, partiamo? Partiamo. Siamo già partiti. Bravo. Era una risposta che mi aspettavo perché quando abbiamo deciso di candidarci in tanti in questa lista l'abbiamo fatto non solo per l'oggi ma l'abbiamo fatto soprattutto per la prospettiva, per il domani, perché siamo in tanti ad avere delle profonde radici nel cuore, nella testa, negli ideali, nella nostra Costituzione che è il primo punto programmatico e però queste radici non ci bastano più. Abbiamo bisogno di costruire una casa comune, abbiamo bisogno di costruire un futuro comune in cui tutti ci si possa riconoscere e però tutti si possa essere uniti verso gli obiettivi che ci siamo dati e abbiamo iniziato a costruire con questa lista e vogliamo portare avanti dal 5 di marzo un progetto politico. In questo progetto politico il contributo delle donne, il contributo della cultura di genere, il contributo anche dell'approccio delle donne che penso sia fondamentale. Vi leggo le parole che mi ha scritto Wanda, una compagna che ha scritto un bellissimo libro, perché andiamo avanti, perché le parole delle donne possano andare avanti e possano cambiare il mondo. Noi abbiamo questa ambizione, l'ambizione di cambiare il mondo, ma anche l'ambizione di cambiare la politica. Voglio partire da una notizia di oggi che è probabilmente la notizia che ci dà il senso di tante cose. Mentre tanti giornali continuano a interrogarsi sui partiti personali, sui tatticismi, sulle alleanze, su fantomatiche liste di ministri e di governi che non potranno mai essere l'unico partito, visto questa terribile legge elettorale con cui abbiamo a che fare, noi donne e tanti uomini che condividono con noi questa battaglia per una società più umana sono atterriti per l'ennesimo episodio di violenza sulle donne, che non è più solo una violenza sulle donne, ma è una violenza che riguarda tutti i più deboli a portire da questi bambini, che sono queste bambine che sono le nostre figlie, sono i nostri figli. Ecco, partiamo da questa visione per iniziare a prendere in carico il dramma di tutti coloro che vivono una condizione di debolezza, una condizione di disperazione, una condizione dell'essere vittime. Noi non vogliamo più essere vittime, che si tratti di essere vittime di governi insensibili, di governi che pensano di trasformarci da cittadini in sudditi con tagli lineari ai nostri diritti, che riguardino la scuola, che riguardino il lavoro, che riguardino la sanità. Non vogliamo più essere vittime come donne, non vogliamo più che qualunque persona più debole o più fragile, che si tratti dei bambini, che si tratti degli immigrati, che si tratti di chiunque si è lasciato solo, possa essere oggetto di una vergognosa campagna che mette deboli contro deboli, fragili contro fragili. Noi invece siamo il contrario, noi siamo quelli che vengono da una cultura che mette le persone al primo posto, che mette questi deboli al primo posto e i diritti di tutti. È per questo che la nostra campagna e il nostro programma si sono concentrati su quattro obiettivi fondamentali. Il primo, un welfare universale che riguardi il ripristino del diritto alla salute per tutti, di un diritto al lavoro per tutti e del sostegno di chi si trovi privo di lavoro senza sua conta, del diritto per tutti di accedere a un'istruzione gratuita e di alta qualità, di un sostegno anche alle famiglie che partano dagli asili e arrivi fino all'università gratuita per chiunque voglia frequentarla seriamente e voglia portare avanti il proprio progetto di vita. Per una sanità che non può essere una sanità di serie A per chi ha i soldi per pagarsi le cliniche private e una sanità di serie B che mette insieme il dramma dei medici che non possono svolgere bene il loro lavoro con il dramma dei pazienti che vanno lì e devono sperare di avere qualcuno che con coscienza li curi anche se magari è un berato da turni di lavoro impossibili. È la lotta alla precarietà, la lotta a chiunque pensi di poter utilizzare il lavoro come un'arma travisando invece il ruolo che la Costituzione gli dà, lo strumento per il pieno sviluppo della persona umana. Il nostro programma è tutto qui, è l'attuazione piena dell'articolo 3 della Costituzione e l'impegno dei pubblici poteri affinché ognuno possa in questa democrazia realizzare quel pieno sviluppo della persona umana che è un diritto del singolo ed è l'interesse delle nostre società. Una società che vogliamo di persone libere e uguali. Io lascio questo messaggio da Lecco ma vale per tutti i comuni di questa circoscrizione elettorale e mi dispiace di non poter continuare il mio giro ma sta arrivando una tempesta di neve e io da mamma devo tornare a casa perché mia figlia non posso lasciarla sola. Però ringrazio di cuore per avermi ospitato in questa campagna elettorale, ringrazio tutte le persone che ci hanno aiutato, Tino, Celeste, i ragazzi che sono veramente dei giovani splendidi, le giovani candidate, i candidati e tutti voi che siete qui presenti e che siete quel popolo con cui vogliamo far partire questo grande progetto per un nuovo partito della sinistra che sia finalmente radicato nel suo popolo e aderente a quel sogno che insieme vogliamo costruire, donne e uomini, giovani e anziani più o meno fortunati. La solidarietà è la nostra forza, la Costituzione è il nostro programma. Grazie.